ciao a tutti e benvenuti sul mio canale youtube andiamo a vedere questo video dove ho eseguito una focaccia una focaccia pugliese con patata e con un polish di lievito madre bene seguitemi ho preparato tutti gli ingredienti eccoli qua ho messo insieme le due le due farine la simola e la farina per focaccia questa è la patata una patata di 100 150 grammi presso a poco una patata media l'ho lessata e l'ho schiacciata ora metto vado a mettere in autolisi le farine ci metto l'acqua aggiungo ne metto poco più della metà bagno bene la farina poi copro tutto e lascio 30 minuti in autolisi passato il tempo ci verso dentro eccolo qua il polish vedete com'è bello lievitato è stato tutta la notte a temperatura ambiente ci metto poi il malto metto anche la patata e faccio girare faccio amalgamare bene prima velocità bassa continuo a mettere l'acqua che è rimasta verso un po per volta ci metto anche il sale e faccio girare dopo un po inizio anche a mettere l'olio un po per volta anche l'olio però non lo metto tutto ne lascio un pochino per mettere direttamente nella ciotola quando andrò a fare le pieghe bene faccio incordare ed ecco qua ok ho messo l'impasto dentro la ciotola dove ho già messo un po d'olio ora faccio il primo giro di pieghe aggiungo un altro pochino di olio mentre faccio le pieghe mi sembra un po troppo questi 30 grammi io ne metterei 25 25 grammi dovrebbero bastare tra un giro e l'altro faccio riposare una mezz'oretta e 20 minuti ok ora copro lo tengo un pochino prima fuori prima di metterlo in frigo una mezz'oretta e poi lo metto in frigo per 48 ore quindi due giorni ed ecco qua il mio impasto ben lievitato l'ho tirato fuori dal frigo e l'ho tenuto ancora almeno due ore ma forse anche di più per farlo acclimatare un pochino ora lo verso come vedete sul piano di lavoro dove ho messo un po di semola l'ho messa anche sulla teglia così non uso ma pochissima è proprio poca poca così non uso carta forno e quindi questo è mezzo chilo di farina più tutto il resto ne tolgo un pochino perché per questa teglia mia è un po troppa non voglio farla venire troppo alta quindi ne ho tolto un pochino così a occhio e ci farò un'altra un'altra pizza piccolina non la tocco come vedete la vado a inserire direttamente appoggiare sulla teglia dove l'allargo piano piano con le dita le misure di questa teglia sono 32 x 23 se non sbaglio se ricordo bene non è molto grande scusate mi scivola la teglia perché sotto c'è la farina e scivola un pochino ok allora una volta una volta allargata io adesso la copro con la pellicola guardate che belle bolle ungo la pellicola perché per non farla attaccare e la copro così non metto olio per adesso sulla focaccia lo metterò dopo quindi la lascio lievitare ancora almeno un'ora un'oretta bene ho sistemato anche la piccolina bene riprendo la teglia e comincio adesso a mettere le olive nere in questo caso però se volete mettete le verdi o un misto potete fare anche verdi e nere tutte e due poi metterò anche i pomodorini che ho preparato i pomodorini sono i miei dell'orto di questa di questa estate che avevo surgelato li ho tirati fuori un pochino prima per farli ammorbidire volendo ci può andare anche l'origano in puglia mettono l'origano sui pomodorini e questo me l'ha suggerito una mia iscritta luana anzi la ringrazio per il suggerimento però io credo che adesso non lo metterò perché a qualcuno in famiglia non piace ci metto l'olio picchietto ancora un pochino lo dovevo fare prima scusatemi poi ci metto un po di sale che ho pestato con il mortaio o il sale grosso un pochino di sale ok adesso ricopro con la stessa pellicola di prima che un po unta così non si attacca e lascio lievitare ancora il tempo si vede poi perché si alzano ancora di più le bolle però un'ora due ore che vi devo dire dovete regolarvi un pochino ad occhio forno ventilato io ho messo ventilato avviso è venuta benissimo dopo 5 minuti 5-10 minuti ho abbassato a 2,20 la temperatura bene io direi che è venuta molto bene vi ringrazio della visione vi invito a condividere i miei video e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto ciao a tutti